Tissò Pocket, un viaggio nel tempo con l'eleganza classica dell'orologio da taschino. L'orologio Pocket rappresenta una raffinata fusione tra l'estetica classica dei tempi passati e le esigenze contemporanee di funzionalità e stile. L'orologio Pocket trae ispirazione dalle radici dell'orologeria, richiamando l'estetica dei primi orologi da tasca che erano in voga nei secoli passati. Il suo design presenta una cassa in ottone o in acciaio inossidabile, disponibile anche col rivestimento in oro, elegante e sottile, spesso caratterizzata da dettagli elaborati e finiture artigianali. Il quadrante del Tissò Pocket è spesso adornato con indici numerici romani o arabici, lancette sottili dal tocco vintage e un secondo quadrante a ore 6. La leggibilità è una priorità, ma l'estetica raffinata non è sacrificata. Il Tissò Pocket è alimentato da un movimento meccanico, una meraviglia di ingegneria orologera. Questi movimenti richiedono un'accurata lavorazione artigianale e sono noti per la loro precisione e affidabilità. Gli appassionati di orologi apprezzano la bellezza di vedere i componenti interni che lavorano in armonia attraverso il coperchio del quadrante. Il Tissò Pocket è disponibile in una varietà di stili per soddisfare i gusti individuali. Dalle versioni più semplici ed eleganti a quelle più elaborate con dettagli decorativi elaborati, c'è un Tissò Pocket per ogni collezionista. Questo modello incarna l'idea che la tradizione e l'innovazione possono coesistere armoniosamente. La sua presenza ha contribuito ad aggiungere un tocco di classe a eventi di gala, cerimonie e serate esclusive. Il suo design elegante e raffinato lo rende l'ornamento ideale per coloro che cercano di esprimere il loro stile unico con un tocco di classe senza tempo. L'orologio Pocket è molto più di un semplice accessorio. È un tributo all'eritagio dell'orologeria e all'eleganza senza tempo. Il suo design classico e le sue finiture artigianali richiamano epoche passate, mentre la sua funzionalità moderna lo rende un compagno ideale per l'uomo contemporaneo. Indossare l'orologio Pocket significa abbracciare la tradizione, l'innovazione e l'eleganza con un solo gesto. Una volta un oggetto di prestigio da tasca, ora un simbolo di stile portatile, l'orologio Pocket continua a ispirare e incantare gli appassionati di orologeria di tutto il mondo.